A me piace avere qualcuno che ama Roma, al di sopra di tutti e di tutti, che ama Milano, che ama Bologna, che ama Torino, non faccio nomi, non faccio sigla, non faccio alchimie, non mi piacciono le marmellate, la Lega c'è e ci sarà anche a Roma, ci chiamano in tanti, ci chiedono di esserci in tanti, magari anche con un nostro candidato, perché no, quando gli altri decideranno cosa fare ce lo dicano e ci ragioniamo, però noi ci siamo e ci saremo sicuramente.